Questo non è un semplice supermercato. Ogni giorno ritrovi freschezza, qualità e i sapori genuini di una volta. Conad, persone oltre le cose. La podistica internazionale San Lorenzo giunge alla sua 56esima edizione. Si correrà domenica a Cava dei Tirreni secondo un tragitto di 7 chilometri e 800 metri e in palio ci saranno i già noti trofei intitolati ad Armando Di Mauro, a Giuliano Ferrara e ad Agnese Lodato. Ma resta vivo il ricordo del compianto presidente del gruppo sportivo canonico San Lorenzo Antonio Ragone, colui che volle per primo questa gara podistica 56 anni fa. Nel corso della conferenza stampa tenuta stamattina alla sala consigliare del Palazzo di Città di Cava dei Tirreni è stato svelato che l'amministrazione comunale si darà da fare per istituzionalizzare la podistica, quindi collaborare per il futuro all'organizzazione della stessa. Noi già da inizio mandato ci siamo dati degli obiettivi, far valorizzare gli sport minori. Non dobbiamo limitarci solo a dare contributi o a dare il nostro patrocino e il nostro servizio. No, il Comune per questi grandi eventi, iniziamo dalla San Lorenzo che sono 56 anni, deve essere in prima linea nell'organizzazione di questi eventi. Deve saper raccogliere tutti gli atleti che arrivano già i giorni prima, dobbiamo creare tutto un pacchetto turistico, culturale e sportivo intorno a questo grande evento. Quindi ci sono le condizioni per farlo, l'amministrazione vuole farlo e scendere in prima linea per questo evento. Un'iniziativa che sono 56 anni che si svolgono in città, non ha bisogno di biglietto da visita, porta già l'usso alla nostra città, adesso l'amministrazione deve fare la sua parte. Quindi vogliamo coorganizzare l'evento e scendere in prima linea insieme agli organizzatori. Antonietta Di Martino, specialista nel salto in alto, sarà insegnita del premio alla carriera che le verrà consegnato domenica in coda alle premiazioni. Sì, era un atto dovuto da parte nostra, a fine della carriera agonistica che è avvenuta due anni fa, noi ci sentevamo in dovere dare un segnale, cioè un premio alla carriera. Qua stiamo parlando di un atleta di valore internazionale che non credo che Cava tutti i giorni possa avere la fortuna di avere un atleta dello spessore di Antonietta Di Martino che la sua carriera è durata quasi 15 anni. Se anche la podistica a San Lorenzo viene istituzionalizzata? Eh sì, noi fa piacere, cioè praticamente noi già da anni le manifestazioni collaterali che facciamo sia al concorso scolastico che sia aspettando alla San Lorenzo sono delle manifestazioni che noi coorganizziamo insieme all'assessorato allo sport e insieme all'assessorato alla pubblica istituzione. La podistica andrà in diretta domenica a partire dalle 17 su questa stessa rete dopo la partita Altamura-Cavese ma inizierà 45 minuti prima con la corsa degli studenti.